Musica Covid De Luca conferma qui obbligo mascherina, il governatore insiste per la linea dura contro il virus e firma l'ordinanza per l'obbligo dei dispositivi di protezione per titolari e dipendenti di bar, ristoranti e alberghi. Intanto è lievamento la curva dei contagi. Musica Cardarelli, Caos, Barelle, si accende lo scontro, polemiche per le dimissioni dei medici, dei sindacati accuse alla regione, De Luca non ci ascolta, Salvini porta il caso in Parlamento, a 696 TV il direttore del 118 Galano, insufficienti le reti ospedaliere cittadine. Società in Bulgaria per evadere il fisco, un'organizzazione transnazionale, una rete che gestiva un'attività di consulenza per il trasferimento di imprese dall'Italia alla Bulgaria, sviluppi nell'inchiesta della Procura di Benevento che ha scoperto un'evasione da 69 milioni. Mimì scomparso nel nulla, figlia sotto inchiesta, svolta nelle indagini della Procura sul caso del 69enne di Prata Principato Ultra, del quale non si hanno più notizie dal febbraio dello scorso anno, indagata la figlia romina per sequestro di persona. Sarno 15, 24 anni fa, la frana che seminò morte, una ferita che non si rimargine, ancora vivo il dolore per l'alluvione del 5 maggio del 1998 che costò la vita a 160 persone, 137 solo nel comune salernitano, a 8 channel il ricordo commosso del sindaco Canfor e dei cittadini. Confindustria e il turismo può rilanciare il sagno, l'assemblea pubblica di lunedì avveneamento occasione per verificare le potenzialità del territorio, così l'assessore regionale al turismo Felice Casucci in vista dell'appuntamento in città organizzato da Confindustria. Erano questi i nostri titoli, buonasera e ben ritrovati con il TG News. In Campania, mascherine obbligatorie per titolari e dipendenti di bar, ristoranti e alberghi, Vincenzo De Luca firma l'ordinanza che sarà valida fino al 15 giugno, necessario essere prudenti il monito del governatore. La mascherina in Campania è obbligatoria anche nei luoghi di lavoro non previsti dal governo nazionale. Vincenzo De Luca firma l'ordinanza che fino al 15 giugno prescrive l'utilizzo delle protezioni individuali per titolari e dipendenti di alberghi, bar e ristoranti. La mascherina sarà necessaria in tutti i casi di condivisione degli ambienti di lavoro, dalle sale e riunioni, alle mense fino alle cucine. Tanto per essere chiari, in Campania rimane obbligatorio l'uso della mascherina per i dipendenti degli alberghi, dei ristoranti, delle cucine, quelli che servono ai tavoli. Mi pare doveroso avere la mascherina è un elemento di prudenza. Per chi sta in un ristorante in cucina o va a servire al tavolo è davvero irresponsabile avere il cameriere che non porta la mascherina. Basta uno starnuto per avere la diffusione dei contatti. Quindi dobbiamo fare attenzione per evitare che poi tra settembre e ottobre cominciamo a riavere il problema. Sul fronte Covid si registra una lieve risalita della curva che si attesta al 17,4%. Nell'ultimo bollettino sono 5.112 nuovi positivi. Resta purtroppo molto alto il numero di vittime. Tre nelle ultime 48 ore, altre 10 avvenute in precedenza ma registrate ieri. Buone notizie invece per i ricoveri. In calo sia le terapie intensive che quelli nei reparti ordinari. Ad Avellino l'Asla ha comunicato la positività di 483 persone, 55 delle quali nella città capoluogo. E si torna a morire nel Sannio. A San Pio di Benevento hanno perso la vita due ottantenni, una donna di Sassinoro ed un pensionato di Calvi. Il caos al Cardarelli con le dimissioni di massa dei medici scatena le polemiche dai sindacati di categoria accuse alla Regione. Salvini porta il caso in Parlamento. Il direttore del 118 Galano insufficiente le reti ospedaliere cittadine. Vediamo. Il Cardarelli torna alla ribalta delle cronache nazionali dopo il caos barelli al pronto soccorso e le dimissioni in massa dei medici. Dopo i polemiche accuse, la direzione corre ai ripari, annuncia correttivi, ma intanto il leader della Lega, Matteo Salvini, fa sapere che presenterà un'interrogazione in Parlamento. Duro il commento dei sindacati di categoria di Anao Assomed, che ricordano di aver denunciato da tempo le criticità all'ospedale Partenopeo. Ma De Luca non ci ascolta l'atto d'accusa dei rappresentanti dei lavoratori. Di fallimento parla anche l'ex sindaco Luigi De Magistris, mentre a Otto Channel il direttore del 118 regionale Giuseppe Galano chiarisce. Il Cardarelli sta soffrendo purtroppo di una pianificazione che in questo momento ha portato il Cardarelli ad essere uno dei pochi ospedali cittadini. Questo perché hanno chiuso di seguito uno dopo l'altro alcuni presidi per varie ragioni, tra cui quella Covid. Nel tessuto cittadino è rimasto il Cardarelli e poi purtroppo, ma in termini territoriali, molto più distante l'ospedale del mare. Servirebbe che ci sia qualche altro ospedale che abbia le connotazioni di un Dea. Noi siamo una città di oltre un milione di abitanti e un solo ospedale non ce la può fare. A margine di un'iniziativa culturale a Napoli, De Luca ha provato a smorzare le polemiche e il problema del Cardarelli, ha detto il governatore, non si risolve aprendo altri pronto soccorso qui e lì. Una organizzazione transnazionale o una rete di persone fisiche e giuridiche che gestiva un'attività di consulenza per il trasferimento di imprese dall'Italia alla Bulgaria parla di questo, l'inchiesta della procura di Benevento che ha portato alla scoperta di una maxievasione da 69 milioni. Vediamo. Imprese italiane trasferite in Bulgaria per sfuggire a sequestri o procedure fallimentari, mantenendo però la stessa denominazione in modo da indurre, secondo l'accusa, confusione nei creditori ed evadere il fisco italiano. Parla di questo la maxie operazione messa a segno dalla Guardia di Finanza di Benevento e Napoli nell'ambito dell'inchiesta coordinata dalla procura di Benevento. Quest'operazione, svuotamento delle società italiane, trasferimento all'estero per sottrarre ai debitori e al fisco sostanzialmente i beni. Indagini trasnazionali che si sono avvalse della collaborazione proficua delle autorità bulgare con al centro una famiglia di professionisti della città che gestisce un noto albergo. Il fine di questa operazione straordinaria era stata quella di tutelare il patrimonio aziendale della società che è stata incorporata in quella estera per sottrarre di fatto il bene aziendale che poi era la struttura alberghiera al fisco italiano e poterlo affidare quindi tecnicamente, formalmente, ad una società di diritto estero dove c'è una normativa più favore rispetto alla normativa italiana e poi gestirlo di fatto attraverso due società neostitutite nel nostro territorio. Sequestri per un valore di 11 milioni di euro, 26 persone indagate a vario titolo e 8 misure interdittive. Quando si parla di fiscalità e fiscalità internazionale, quindi andiamo proprio in uno degli obiettivi strategici del corpo. La difficoltà che ha richiesto questa attività è proprio la collaborazione anche con le autorità bulgare come diceva il signor procuratore ci ha consentito poi di svolgere quelle attività che altrimenti non ci sarebbe stato modo per acquisire documentazioni. Scomparso a gennaio del 2021 in Erpinia c'è la svolta indagata alla figlia di Mimi Manzo per sequestro di persona. Vediamo. Svolta nell'inchiesta sulla scomparsa di Mimi Manzo, il 69enne di Prata Principato Ultra ha scomparso la sera dell'8 gennaio del 2021 durante la festa di compleanno della figlia 21enne. E proprio la figlia, Romina Manzo, è stata iscritta nel registro degli indagati a un anno e più dalla scomparsa. Le accuse sono gravi, sequestro di persona e false informazioni rilasciate al pubblico ufficiale con lei indagata anche una sua amica, la stessa che la sera della scomparsa avrebbe lanciato un urlo tale da essere sentito da molti testimoni. La giovane assistita dall'avvocato Serena Luce si è poi giustificata davanti ai carabinieri sostenendo di aver assistito all'investimento di un cane, ma di quell'animale non si è mai trovata traccia. Per questo lei al momento risponde di favoreggiamento e false informazioni. Le indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Avellino si concentrano sulla festa di compleanno. L'ultima volta che è stato avvistato Mimi, secondo le prime testimonianze, l'uomo a un certo punto uscì di casa per fumarsi una sigaretta, poi la scomparsa. I carabinieri più volte hanno sentito i partecipanti a quella festa, i due figli di Manzo e gli abitanti del paese. Ora la novità per gli inquirenti, Romina Manzo potrebbe aver avuto un ruolo determinante nella vicenda. A 24 anni dall'alluvione di Sarno e 15 che costò la vita a 160 persone, il dolore ancora vivo nella memoria delle due comunità, al microfono di Otto Channel le drammatiche testimonianze dei sopravvissuti, diverse le iniziative, il ricordo delle vittime. Una ferita aperta che non si rimargina. Sono passati 24 anni dal 5 maggio del 1998, quando l'alluvione che ha colpito Sarno e 15 uccise 160 persone, 137 solo nel comune dell'Agro, un dolore ancora vivo nella memoria. Io stavo lì sopra, ci ha preso l'elicottero, ci ha preso. Qui era tutto pieno, fino a qua. Io abitavo là. E' meglio non ricordare, c'erano un sacco di parenti, cugini, sono morte con 15-16 persone. Un fang, è troppo stato, non si vedeva, non si vedeva, non si vedeva. All'improvviso è scesa una navatona proprio, a me mi ha sbattuto due cortili. Sono morte parecchie, solo che conosco amiche, amiche, amici, il dolore è fortissimo. Dopo l'alluvione Sarno è corsa ai ripari. Da questa vasca che vedete alle mie spalle, fino alla zona Foce, fino a Contrada Foce, ci sono ben cinque vasche di queste dimensioni, quindi è una difesa notevole per la città. Da settembre dovrebbero partire i lavori di manutenzione, ci sono circa 9 milioni di euro da parte della regione Campania. Sarno ha ricordato oggi la tragedia con diverse iniziative, l'inaugurazione di una mostra al comune dal titolo rivivo, la deposizione di una corona di fiori in Viale Margherita, la celebrazione di una messa nel Duomo di Episcopio, dove poi si è tenuto un concerto dell'orchestra Città di Sarno. Rinviato al prossimo primo giugno il processo corrito abbreviato per Don Nicola de Blasio, ex direttore della Caritas Diocesana di Benevento e parroco di San Modesto, finito in carcere nell'ambito di un'inchiesta partita da Torino, poi approdata a Napoli con le pesanti accuse di detenzione e condivisione di materiale pedopornografico, ipotesi di reato sempre rigettate dal parroco che durante l'interrogatorio aveva spiegato di aver scaricato quei file per un dossier, poi immediatamente interrotto quando aveva saputo che quel tipo di lavoro non era consentito dalla legge. C'è poi un ulteriore troncone al centro degli approfondimenti della Procura e della Guardia di Finanza di Benevento che riguarda i 170 mila euro in contanti trovati nella sua casa durante una perquisizione. Bonifiche da Bagnoli e Campi Rome. Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha fatto il punto dei programmi di risanamento in città, pronti gli interventi su Napoli Est, ma su rifiuti avverte è necessario completare il ciclo. Sono tante le criticità ambientali che insistono sul territorio di Napoli, ma le sfide più grandi sono ad est e ad ovest della città. Da un lato la zona industriale con i siti da recuperare, dall'altro Bagnoli. La sfida più grande l'ha definita il sindaco Manfredi a margine di un convegno presso la sede RAI. La bonifica a terra sta procedendo in una maniera soddisfacente, anche se richiede un'accelerazione. C'è la grande sfida della bonifica a mare che presenta delle complessità tecniche e metodologiche molto grandi. Sullo sfondo il recupero di intere aree degradate e la necessità di chiudere il ciclo dei rifiuti. Fa ripuntati sulla zona est della città, dove l'incendio al Campo Rome ha finito per peggiorare la situazione. Quell'area era un'area che prevedeva uno sviluppo urbanistico che non è stato mai realizzato. Noi adesso stiamo riprendendo proprio quel pezzo di città nell'ambito dei nostri piani di sviluppo della zona est e della zona di prossimità del centro direzionale. Quindi il nostro obiettivo è di riuscire a fare un piano di bonifica dei campi per dare una sistemazione dignitosa, anche perché ci sono risorse da molti anni, da più di dieci anni, che non sono state utilizzate, che hanno questo obiettivo. Provincia di Avellino, Rizieri Buonopane torna al timone di Palazzo Caraccio. L'accolto dal Consiglio di Stato, infatti, l'istanza presentata dal sindaco di Montella per chiedere il congelamento degli effetti della sentenza del tardi giovedì scorso che aveva parzialmente accolto il ricorso di Angelo Antonio D'Agostino, sindaco di Monte Falcione, uscito sconfitto a dicembre nella contesa per la fascia azzurra. Buonopane è decaduto dalla carica il 27 aprile e dopo una settimana, dunque, torna in sella. Per il massimo organo della giustizia amministrativa sussistono, infatti, le ragioni di estrema gravità ed urgenza e dunque ha accolto l'istanza riabilitando il presidente Buonopane e fissando per il prossimo 24 maggio l'udienza di Consiglio per la ratifica della sospensiva. Bene, focus di Confindustria dedicato anche al turismo sarà l'occasione per pensare e parlare di Benevento come nuova realtà della territorialità campana, così l'assessore regionale al turismo Felice Casucci in vista dell'Assemblea di Confindustria in programma lunedì 9 maggio. Vediamo. Dalle infrastrutture all'energia il rilancio del sannio passa anche per il turismo. Uno dei settori al centro del confronto tra imprese e istituzioni promosso in occasione dell'Assemblea di Confindustria Benevento in programma il prossimo 9 maggio. Al Teatro San Vittorino l'incontro con gli industriali sanniti guidati dal presidente Oreste Vigorito con le conclusioni del governatore della campagna Vincenzo De Luca e da Palazzo Santa Lucia l'assessore al turismo Felice Casucci ribadisce. Benevento è veramente un modello di sviluppo del tutto autonomo che ha delle sue peculiarità, ha un'antichissima tradizione che è ovviamente connotata storicamente quindi benissimo che Confindustria dedichi un'attenzione, un focus a questo momento turistico sarà un'occasione sicuramente per pensare e parlare di Benevento come una nuova realtà della territorialità campana che accoglie turisti che non vanno, che non andrebbero altrove. Questo Benevento lo deve fare perché Benevento ha sicuramente la peculiarità per farlo e deve farlo creando anche una propria progettualità. Per l'esponente della giunta regionale Dunque Bene il confronto promosso dagli industriali sanniti. Noi sul partenariato pubblico privato ci abbiamo creduto al primo momento. Credo che l'azione anche che sta facendo giustamente il presidente di Confindustria Benevento meritevolmente è proprio in questo, è quella di dialogare fortemente, dialogare fortemente all'interno della struttura imprenditoriale ma anche dialogare fortemente con le istituzioni. Il lunedì sarà un'occasione importantissima. Adesso è tempo in cui le imprese assumano un senso profondo di responsabilità e la parte pubblica deve assumere un senso profondo di competitività. A Salerno sono già partiti i preparativi per la prossima edizione di Lucida Artista. Il sindaco Vincenzo Napoli ha incontrato il progettista torinese che ha illustrato le prime possibili novità. La rotonda potrebbe trasformarsi in un grande acquario animato con tanto di meduse tridimensionali. La villa comunale in un grande giardino preistorico. Idee e suggestioni che sono state illustrate dal gruppo di progettazione torinese a cui il comune di Salerno ha dato l'incarico di organizzare la prossima edizione di Lucida Artista. Ieri gli architetti Domenico Luca Pannoli e Maria Cristina Milanese hanno fatto tappa a Palazzo di Città per mostrare le prime idee. Ieri ho avuto un incontro con il progettista che abbiamo incaricato per la redazione del progetto per la prossima tornata di Lucida Artista. Ci ha raccontato delle suggestioni, ci ha fatto vedere delle cose che mi sembrano assolutamente interessanti e credo che la nuova tornata, la nuova edizione di Lucida Artista sarà gicca di intuizioni nuove che poi si articoleranno nell'arco di tre anni fino a raggiungere il compimento a fine del contratto che noi abbiamo per quanto riguarda gli aspetti della realizzazione delle Lucida Artista stesse. Tra le novità della diciassettesima edizione potrebbero esserci anche delle opere realizzate da artisti noti idee che per il momento restano tali servirà un po' di tempo infatti per valutare le proposte e decidere quale percorso seguire. Il comune di Salerno infatti intende dare un nuovo taglio alle Lucida Artista per rinnovare l'evento e renderlo ancora più attrattivo dal punto di vista turistico. Questa mattina si è tenuta all'udienza per il processo a carico di Don Livio Graziano, sacerdote cinquantenni accusato di aver abusato sessualmente di un ragazzino di 13 anni nella comunità ai figli di Emmaus a Prata di Principato Ultra una cooperativa sociale per l'assistenza alle persone con problemi di depressione e disturbi dell'alimentazione a porte chiuse, lungo e complesso interrogatorio durante il quale la giovane vittima ha ricostruito la triste vicenda fornendo tutte le delucidazioni richieste sui messaggi acquisiti agli atti e rinvenuti sul cellulare di Don Livio all'atto del sequestro. la vittima presente in aula ha fornito gli elementi funzionali a comprendere la vicenda. A Benevento sarà aperto uno sportello in comune per aiutare le famiglie e le imprese ad intercettare gli aiuti per il sovraindebitamento messi in campo da legislatori anche per far fronte alla crisi economica derivante da pandemia e guerra. Far conoscere la legge di sovraindebitamento destinato a famiglie e imprese, questa la mission dello sportello che a breve sarà aperto presso il comune di Benevento grazie ad un protocollo portato avanti da Comune, Università del Sannio, Camera di Commercio e dagli ordini professionali di avvocati e commercialisti. E mi sono resa conto negli anni che c'era veramente una grossa e grave mancanza di informazione rispetto a quella che è una possibilità importante che il legislatore italiano ha concesso a coloro i quali purtroppo per questioni ovviamente a loro non imputabili avevano difficoltà a ritornare, a riprendere le loro attività professionali, imprenditoriali e non solo, ahimè purtroppo anche le famiglie. Idea quella di Stefanucci accolta immediatamente dal comune di Benevento che ha dato la disponibilità ad ospitare lo sportello. Nella precedente amministrazione ha deliberato la Costituzione unitamente all'Università del Sannio e alla Camera di Commercio che ha l'organismo di composizione della crisi un protocollo di intesa per avvicinare le persone, per diffondere questa legge e i vantaggi di questa legge. Un momento particolare purtroppo caratterizzato dalla crisi economica acuita prima dalla pandemia, poi dalla guerra in Ucraina. Cerchiamo di portare l'attenzione sul sovraindemediamento e sulla possibilità di aderire a una procedura che può alleggerire praticamente il peso dei debiti sulle imprese e sulle famiglie. Andiamo ora in Irpini. A Gesualdo Marce prega con le fiaccole accese per il sedicenne in fin di vita. Anche i compagni di classe ieri sera hanno partecipato alla preghiera di gruppo. Tutti in marcia fino alla chiesa di San Nicola. Restano gravissime le condizioni di Peter. Il sedicenne di Gesualdo è arrivato in fin di vita all'ospedale San Giuseppe Moscati lunedì pomeriggio. Un proiettile di pistola gli ha trapassato il cranio fuoriuscendo, causandogli lesioni gravissime. Peter avrebbe preso la pistola, legalmente detenuta dai genitori, per allontanarsi da casa. Poi l'esplosione e quel colpo che gli ha trapassato la testa. Un gesto dettato forse dallo sconforto o un tragico incidente, due ipotesi su cui indaga la procura. Sono stati sequestrati anche telefonino e picci del ragazzo per ricostruire quanto accaduto. Intanto ieri sera nel suo paese, Gesualdo, si è svolta una fiaccolata dal convento dei Cappuccini fino alla chiesa di San Nicola. Ci sono stati ragazzi, tutta la comunità, tutte le associazioni presenti, tutti quanti perché volevamo in questo modo farli sentire il nostro affetto, la nostra vicinanza e dire forza a Peter per tornare a casa. La comunità prega perché Peter possa tornare a casa. Il nostro figlio è figlio di tutti, fratello di tutti, amico di tutti, ma non solo Peter, tutti quanti i ragazzi. Abbiamo fatto anche delle preghiere specifiche, dei pensieri rivolti a Peter e alla loro famiglia. Come mamma sì, ti dico, sono molto colpita, molto commossa e mi sono sentita di dare voce al sentimento di tutte le mamme perché veramente siamo tutti in apprezzione per questa cosa. Gli studenti devono investire sul proprio futuro scommettendo sulla formazione di qualità degli istituti tecnici superiori. Qui è il messaggio lanciato dall'assessore regionale Lucia Fortini alla platea della Borsa Mediterranea del Lavoro in corso alla stazione marittima di Salerno. Record di presenze alla Borsa Mediterranea Formazione Lavoro in corso alla stazione marittima di Salerno. Focus sugli istituti tecnici superiori, scuole di eccellenza ad alta specializzazione che possono garantire percorsi specifici per velocizzare l'inserimento di ragazze e ragazzi nel mondo del lavoro. Ho cercato di far capire che gli ITS sono uno strumento potentissimo, il problema è che noi addetti ai lavori lo conosciamo e sappiamo che dopo due anni di formazione in realtà si riesce a trovare un lavoro per tutti perché poi viene occupato l'85% dei ragazzi, ma gli altri 15 non è che non trovino lavoro, scelgono percorsi universitari, possono scegliere di andare a lavorare fuori regione. È uno strumento potentissimo per cui io davvero consiglio a tutti i ragazzi di informarsi sulle selezioni direttamente, questo sacrificio viene fatto in azienda, si studia direttamente in azienda, poi si può essere occupati. La priorità è stato ribadito davanti ad una platea di centinaia di studenti e non solo è investire su se stessi. Il ministro Orlando ci ha detto che un paese che vuole rilanciarsi non può che prescindere e partire da quelle che sono le competenze del capitale umano. Abbiamo un capitale umano ricco di competenze. La Borsa Mediterranea vuole far sì che queste competenze attraverso l'informazione e attraverso la formazione vengano messe in risalto. Ci sono un sacco di opportunità per i giovani del mezzogiorno, quindi consiglio loro di informarsi e di formarsi rispetto a queste opportunità. Era questo il nostro ultimo servizio, questa edizione del nostro telegiornale termina qui. Ora ci sono le previsioni meteo, a voi tutti grazie per averci seguito. Grazie a tutti. Grazie a tutti.